È durata soltanto 21 minuti la gara tra Lutos Ravagnese e Africo per il girone B di promozione. A un certo punto, durante proprio questo minuto, il direttore di gara segna un calcio di rigore all'Africo. Battuto una prima volta parato dal portiere della squadra di casa, poi il direttore di gara, avvicinato dal suo collaboratore, fa ripetere per probabilmente un movimento irregolare da parte del portiere stesso, fa ribattere e anche questa volta, nella seconda ribattuta, il rigore veniva parato. Non si capisce come mai, in un certo momento, ci sono state le proteste della parte della panchina della Lutos e tant'è vero che il direttore di gara ha espulso da prima l'allenatore e poi anche un altro collaboratore e a un certo momento ha ritenuto opportuno sospendere la gara perché probabilmente, a suo dire, non c'erano più le condizioni. Adesso non vogliamo entrare nel merito della questione, il fatto sta che se non ci sono stati, come altre volte abbiamo detto, in situazioni particolari è quasi certo che la partita sarà fatta ripetere dal giudice sportivo in quanto forse non ricorrevano le condizioni per la sospensione, però tutto è da vedere, tutto è da verificare e sapere quello che poi alla fine il direttore di gara scriverà nel suo referto. Per il momento, per la partita Lutos-Torravagnese, noi dobbiamo sottolineare soltanto sospesa al ventunesimo del primo tempo sul risultato di 0-0.